Buonasera amiche, buonasera amici bianconeri e bentrovati nuovamente qui sul canale. Secondo contenuto in questo sabato 8 luglio che vado a dedicare a Sergei Milinkovic-Savic perché è un'ipotesi sostanzialmente concreta, questo non significa che Sergei Milinkovic-Savic finalmente, aggiungo perché sono anni che si vocifera di un suo possibile acquisto da parte della Juve e arriverà a Torino, però ci sono sicuramente dei sentori e delle situazioni in evoluzione. Ne parliamo qui insieme, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube, ancora vi invito a farlo qualora non lo foste, assalto a quota 20.000 per me è un traguardo davvero prestigiosissimo, mai avrei pensato un paio di anni fa di arrivare a queste cifre, quindi grazie per la fiducia, grazie per il seguito, azionate la campanella delle notifiche e poi un bel like al contenuto in fondo della puntata se questa sarà stata di vostro gradimento. Dicevo, Sergei Milinkovic-Savic, parliamo un po' del sergente perché è in dubbio, ieri si è reso ufficiale l'incarico di direttore tecnico, di football director per Cristiano Giuntoli, ne abbiamo parlato, buone sensazioni ha trasmesso chiaramente la sua juventinità, il suo essere, sentire la Juve come una grande emozione dentro e quindi non ci sono dubbi che si spenderà in lungo e in largo per riportare quanto prima la Juventus dove merita di stare. Tra l'altro ha già avuto anche colloqui con John Elkian, il quale insomma gli ha fatto capire che alla Juve del tempo purtroppo da perdere per cercare di ritornare in auge non ce n'è e quindi bisogna lavorare per rendere la Juve competitiva da subito. E allora la voce di Sergei Milinkovic-Savic, giocatore che mai come quest'anno probabilmente è così vicino al potersi vestire di bianco-nero, è una voce che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione e seguire. Io mi sono così permesso proprio nella giornata di ieri, alla luce ovviamente delle informazioni che così costantemente ricevo nei miei confronti quando capita, per non dire quotidiani, mi sono permesso di dire che con l'acquisto di Sergei Milinkovic-Savic che è in dubbio che interessi alla Juventus, la Juventus stessa verrebbe a ritrovarsi con Milinkovic-Savic, Rabiot, Pogba, Fagioli, Miretti che comunque andrà in prestito, Rovella e Locatelli. Sono sei centrocampisti che nel compito di una stagione logorante possono ovviamente non essere troppi, anzi servono tutti. Però dobbiamo fare una valutazione ben chiara. La Juventus è in attesa di capire che cosa sarà del suo futuro. Gravina ha parlato, ha detto che a breve ci sarà la sentenza della UEFA per capire se la Juventus sarà penalizzata e quindi esclusa dalla Conference League oppure se rimarrà dentro la competizione europea. Qualora la Juventus non rimanesse all'interno della competizione europea, la Juventus si troverebbe a giocare una stagione dedicandosi ovviamente al campionato e alla Coppa Italia. Coppa Italia che sappiamo riservare poche apparizioni soprattutto per le teste di serie, per le squadre, per le big. E quindi la mia domanda che ovviamente animava riflessioni, non voleva essere la verità assoluta e non vuole essere la verità assoluta è ma con questi sei centrocampisti, con una stagione, ripeto, che potrebbe vedere la Juve non partecipante alle competizioni europee. Siamo sicuri che non si sacrificherebbero in maniera eccessiva i giovani, dove per giovani mi riferisco in primis a Fagioli e a Rovella? Ecco perché io ve lo dico molto sinceramente, se c'è un qualcosa che da tutto quello nel quale è finita la Juventus con i dieci punti di pennellazione, vorrei tanto che venissero valorizzati i giocatori giovani, possibilmente italiani. Siccome abbiamo in rosa Fagioli e Rovella mi piacerebbe che la Juventus ripartisse proprio da questo patrimonio. Chi dice se sono buoni giocano, mi sono permesso e lo sottoscrivo anche in questo contenuto di dire non è sempre così perché Fagioli l'anno scorso non fosse incappato nelle disgrazie altrui, a Lecce non sarebbe sceso in campo. Da Lecce è svoltata la sua stagione, da Lecce per seguire a Milano a San Siro contro l'Inter, Fagioli ha fatto capire a che livello fosse il suo lavoro, quanto fosse importante il suo contributo e fu grazie all'apporto dei giovani, delle giovani leve, dei rampanti, voglia di mettersi in mostra che Allegri diede vita alla risalita in classifica. Poi sappiamo tutti com'è andato, una volta raggiunta la posizione che poteva addirittura far pensare ad un reinserimento nella zona Scudetto, il riaffidarsi ai veterani, i risultati sono stati quelli che abbiamo visto, una Juve senza identità, senza passione, senza sentimento di appartenenza, perlomeno quello che trasmetteva. Quindi acquistando Sergei Milinkio e Savic, anche qui vi espongo la mia riflessione, il rischio non è che i giovani possano poi giocare poco e mi riferisco in primis a Rovella, Fagioli, per Rovella, capitolo Rovella, a me continua a essere confermato e auspico che corrisponda al vero, anche se nutro più di un dubbio che Rovella non è sul mercato, tanto più eventualmente ci finirebbe Fagioli, ma non Rovella. Questo è quanto mi è stato riferito. Io nutro qualche perplessità, perché è vero, la Lazio è vicina a poter chiudere l'operazione Torreira, che potrebbe essere Torreira il centrale per Sarri e quindi Rovella potrebbe uscire un attimino anche dai discorsi legati a Sergei Milinkovic, che va in scadenza il prossimo anno, non ha intenzione di rinnovare e Lottito comincia a fare più di un conto per capire se conviene veramente portarlo a scadenza oppure cederlo per una cifra ragionevole, inserendo magari nell'operazione con la Juventus anche il cartellino di Luca Pellegrini. Quello di Rovella è un nome che ancora ruota intorno al nome di Milinkovic, come possibile inserimento nella contropartita, come contropartita appunto nell'affare col Sergente. L'auspicio mio è che Rovella non si muova da Torino e che sia un punto cardine del centrocampo della Juve, perché credo che sia, ripeto, l'ho già detto e lo ribadisco, il centrocampista che serve da mettere davanti alla difesa, più, molto più di Locatelli e quindi congiuntoli che non è certamente uno sproveduto, anzi credo che in questo momento sia in assoluto la persona che di calcio all'interno della dirigenza ne capisca più di tutti. Ecco, la speranza è che non si faccia l'errore di cedere un classe 2000 o 2001, forse, Rovella, per un giocatore come il Sergente, che è certamente un upgrade nel centrocampo della Juve, giocatore che negli ultimi anni in Italia, a centrocampo, ha risultato sempre essere il migliore, se non o uno dei migliori, e sicuramente un giocatore di un certo livello. Non lo reputo il fuoriclasse, quello che ti fa fare il salto anche a livello europeo, a prescindere dal fatto che la Juve in Europa questa stagione quantomeno potrebbe non esserci, ma lo ha dimostrato peraltro con la Lazio, lo ha dimostrato con la Nazionale, però è certamente un giocatore che in Italia è stato capace di spostare gli equilibri, porterebbe in dota dei gol, porterebbe in dota tanti assist, quindi come acquisto non si può discutere. Lo discuto nel momento in cui sul piatto viene eventualmente inserito Niccolò Rovella, che dal mio punto di vista deve essere uno assolutamente di incidibili della Juve e su cui costruire il prossimo futuro della Juve, il prossimo ciclo che possa essere un ciclo vincente, con Rovella a centrocampo. La riflessione è questa, mai come adesso il sergente è vicino a potersi vestire di bianconero, l'accordo con la Juve c'è, esiste da tempo, lo aveva già trovato anche nella passata stagione, sono anni che viene accostato alla Juve, si parla di una cifra intorno ai 5,5 più bonus per arrivare circa 6 milioni di euro netti a stagione, contratto per lui di 4 anni, giocatore che se non sbaglio ha 28 anni, certamente nel pieno della maturità calcistica, però resta sempre quel però, io non mi priverei dei giovani e soprattutto bisogna capire come vorrà giocare Massimiliano Allegri. Centrocampo a 3, quello che io auspico o eventualmente 4-4-2 rimodulabile, 4-2-3-1, bisogna capire come vorrà giocare Massimiliano Allegri, se eventualmente 4-3-1-2 e quindi con il vertice alle spalle di due punte, il 4-3-2-1 a mo' di albero di Natale come impiegava Milano con il Milan e ovviamente dobbiamo sempre tenere conto che nella Juve c'è un altro giocatore che mi è stato detto non partirà e che ovviamente non può essere sacrificato ma deve essere riportato ai suoi fasti, ai suoi livelli che si chiama Federico Chiesa e quindi intanto cerchiamo di capire e presto cominceremo a capire come vorrà giocare Massimiliano Allegri e poi il sergente è un'ipotesi concreta, l'auspicio mio però è che non vengono sacrificati i giovani. Ditemi la vostra, come sempre fino alla fine, Forza Juve!